A soli 18 mesi d'età pesa 20 kg, la bimba più cicciona del mondo non riesce a smettere di mangiare e a dimagrire rischiando la vita ma sembra che i medici abbiano trovato una valida soluzione si chiama Aliha Salem, bimba indiana, pensate che pesa quanto un bimbo di 6 anni d'età la sua base di curry e biscotti, i genitori non riescono a placare la sua voglia di mangiare, una voglia incontrollabile tuttavia, secondo un dottore di nome Bavia Kumar, la piccola o meglio la grande potrebbe essere affetta da sindrome di Prader-Willi, una malattia rarissima caratterizzata da difficoltà d'apprendimento, anomalie della crescita e mangiare in modo ossessivo. Il dottore spera di poter fare alcuni test per individuare in modo preciso la patologia esatta ma ha garantito che potrebbe essere curata, ringraziando il Dio. I genitori di Aliha hanno perso tuttavia un altro figlio per l'identico motivo per cui rischiano di perdere la bimba ma la tia quindi potrebbe essere di tipo genetico. Grazie cari clienti, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti.